Buonasera, Grandangolo propone oggi un focus sullo Sporting Club Livigno, in particolare sulla commissione programmazione e formazione. Vi presento i miei ospiti, abbiamo Diego Peri, presidente dello Sporting Club Livigno, buonasera. Abbiamo Omar Galli, direttore sportivo dello Sporting Club. Buonasera. Benvenuto anche a lei. A suo fianco Cristina Rupani, psicologa, psicoterapeuta. Buonasera. Benvenuta, grazie. Consigliere delegato allo sport, Remo Galli, benvenuto anche a lei. Buonasera. Come dicevo in apertura, presenteremo questa sera la commissione programmazione, presenteremo gli obiettivi di questa commissione che è stata recentemente costituita, ma vorrei subito sentire dal consigliere Remo Galli quali sono state le motivazioni che hanno portato a una sorta di rivoluzione all'interno dello Sporting. Ma diciamo sostanzialmente che il Comune investe molto nello sport, sia a livello di strutture, quindi credo che l'obiettivo del Comune sia quello di far fare più pratica sportiva possibile ai nostri ragazzi. Allo stesso tempo dobbiamo cercare anche di dare un servizio di qualità. Quindi ci siamo posti l'obiettivo di dire che una famiglia che dà a un bambino lo Sporting deve avere la certezza di un insegnamento di un certo tipo. E quindi siamo partiti tutti assieme, quindi col direttore sportivo Omar, con Diego che è stato nominato dal Comune proprio per dare più forza alla presenza del Comune all'interno dello Sporting. Siamo partiti con questo ragionamento che poi abbiamo fatto con le associazioni, abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli sportivi e speriamo di essere arrivati a una giusta conclusione. In sostanza che cosa è cambiato? Ma è cambiato di fatto a livello funzionale, il Comune ha imposto e questo è stato condiviso anche da tutte le associazioni che hanno votato all'unanimità, il Presidente è nominato dal Comune, proprio per questo per dare una garanzia a tutte le associazioni di avere una persona super partes e una persona che poi potesse anche portare avanti gli obiettivi che un Comune si dà per quanto riguarda lo sport e che è quello che dicevo prima, quindi non il ragazzo che viene dato in mano allo Sporting deve avere una certa garanzia e allo stesso tempo dobbiamo cercare di fare più sport possibile a tutti i ragazzi, proprio perché lo sport rappresenta poi, è veramente importante sia a livello educativo, sia a livello culturale, sia a livello sportivo, poi anche di valori e quindi abbiamo pensato di fare questo e allo stesso tempo c'erano dei problemi all'interno dell'associazione, volevamo anche una persona forte quindi che rappresentasse il Comune anche per gestire eventuali problematiche che potrebbero nascere all'interno delle varie associazioni. Quindi il Comune avrà un peso maggiore rispetto al passato nella gestione delle attività sportive? Avrà diciamo più che un peso avrà sicuramente un controllo maggiore sull'attività che viene fatta per i ragazzi di Livigno proprio perché vogliamo cercare di dare un progetto formativo educativo ai nostri ragazzi. Lo Sporting Club quindi è stato completamente rinnovato? Ma è stata rinnovata la carica del Presidente, è stato confermato comunque la carica non è più direttore tecnico ma c'è il direttore sportivo Omar e sostanzialmente sono cambiati all'interno dei consiglieri per problemi o di tempo o di altro quindi di fatto è cambiato anche un pochettino il potere del Presidente dello Sporting, magari poi Diego lo dirà meglio, che ha anche il Presidente dello Sporting che avrà anche un potere un pochettino più di controllo e di entrare insieme all'associazione nella programmazione. Bene, quindi chiedo a questo punto a Diego Peri, Presidente dello Sporting Club, l'elezione della sua figura, quindi già da qualche mese è in carica, l'elezione anche la nomina del Consiglio direttivo, dico bene? Sì. E poi anche la costituzione di questa commissione. Sì, in pratica è già da un paio di mesi che sono stato nominato in qualità di Presidente dello Sporting Club, è una nomina diciamo così nuova in quanto come ha già detto Remo appunto è stata una nomina venuta dal Comune e di conseguenza non più formalmente ancora all'interno del Consiglio ma su forte indicazione da parte del Comune. Per quanto riguarda invece, come ha già detto Remo, sono state confermate un po' le figure del direttore sportivo, prima direttore tecnico ora direttore sportivo che ha nella figura appunto dell'Omar Galli che ha di fatto la gestione operativa dello Sporting Club come del resto già faceva prima. Poi è stato confermato in toto anche i membri del Consiglio ad eccezione del Consigliere Giuseppe Bormolini che invece ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali e mentre rimangono gli altri consiglieri. Di conseguenza c'è una continuità di fatto per quanto riguarda i consiglieri e quindi l'operatività dello Sporting. Si è voluto dare appunto un segnale forte invece sulla mia figura per quanto riguarda una garanzia nell'operato dello Sporting e un controllo diretto da parte del Comune, questo sì sicuramente, mentre ripeto a livello operativo le cose sono sostanzialmente invariate. La grande novità per l'anno e per il futuro dello Sporting è sicuramente appunto la predisposizione di questa nuova commissione che è una commissione di formazione e di supporto anche a quello che sono le sia le sezioni che le associazioni dello Sporting Club che è una commissione formata da alcuni membri interni allo Sporting per quanto riguarda la figura del direttore sportivo che ne fa sicuramente parte e anche membri esterni allo Sporting ma che hanno una capacità professionale e una formazione a nostro parere elevata e soprattutto consona quello che è il ruolo della commissione che sono la dottoressa che poi andremo a vedere la dottoressa Rupani, la dottoressa Michela Silvestri e poi c'è anche la figura del Fabrizio Incondi che è una figura ormai molto conosciuta nello Sport di Livigno e che sicuramente può in qualità proprio di conoscitore della realtà e ha fatto parte dello Sciclub per molti anni secondo noi è una figura che può dare il suo contributo. Bene, Omar Galli, abbiamo sentito la commissione è una commissione formata soprattutto da tecnici perché gli obiettivi di questa commissione quali sono? Non bastano più le competenze sportive servono anche altre competenze? Ma sicuramente è importante sottolineare come l'attività sportiva sia prima di tutto formativa sicuramente abbiamo condiviso con l'assemblea e abbiamo condiviso col comune l'obiettivo di fondo mi permetto solo di aggiungere oltre alla nomina del presidente oltre diciamo un rimpasto così funzionale e formale anche il comune ha dato per la prima volta per iscritto quello che sono gli obiettivi che lo sporting deve raggiungere fino ad oggi ce lo si è sempre detto, era scontato, lo sapevamo tutti però per la prima volta sono stati iscritti quali sono gli obiettivi che lo sporting si deve diciamo in qualche maniera adottare e deve riuscire a raggiungere per cui questo è stato secondo me la parte principale sono tutti, siamo tutti importanti perché siamo tutti importanti la figura del presidente, consigliere e quant'altro però deve essere chiaro cosa deve fare lo sporting innanzitutto appunto deve prevenire quello che è un disagio giovanile che è sempre più marcato all'interno diciamo della nostra comunità dobbiamo prevenire l'abbandono della pratica sportiva perché passiamo da un 87% di frequentanti nelle elementari a un 60% nelle medie poi sappiamo che ci sono i collegi, i ragazzi vanno via di casa nelle superiori ma cala ancora più drasticamente il risultato degli sportivi e il terzo obiettivo è formare delle persone che siano persone non solo atleti ma che siano diciamo delle persone a 360 gradi per cui dal punto di vista personale, dal punto di vista emotivo dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista tecnico per raggiungere elevate prestazioni per cui nei vari passaggi all'interno dell'assemblea questo è stato scritto, questo è stato definito e secondo me è il primo passaggio fondamentale come riuscire a raggiungere questi obiettivi la commissione è funzionale al raggiungimento di questi obiettivi per cui il fatto di incaricare un gruppo di lavoro per definire le modalità con quale raggiungere questi obiettivi la programmazione, con che tempistiche secondo me era l'altro passaggio essenziale perché altrimenti una volta stabiliti gli obiettivi se non ci diciamo quale via percorrere avremmo rischiato di fare una bella confezione ma senza poi dargli sostanza per cui secondo me siamo riusciti a mettere insieme un aspetto importante a definizione degli obiettivi e un altro aspetto altrettanto importante che è come raggiungere questi obiettivi la commissione sicuramente non potrà nel giro di poco andare a raggiungere tutto ha iniziato ad operare, inizia a muoversi è un cammino a meglio lungo termine sicuramente non si vedranno i risultati prima di 2, 3, 4, 5 anni ma penso che sia fondamentale avere diciamo obiettivi a medio e lungo termine non nell'immediato Ecco vi siete già incontrati? Si è già riunita la commissione? Sì la commissione si è già data una modalità operativa si è già presentata al mondo degli sportivi a metà dicembre ha già dato dei compiti ha già iniziato a essere abbastanza operativa per esperienza possiamo anche dire che il cammino ci dirà poi come la commissione andrà diciamo a variare la propria operatività però sicuramente è già operativa già ha fatto delle richieste agli allenatori agli operatori sportivi e quant'altro che poi vanno verificate, vanno vagliate da lì in avanti è tutto un lavoro in progressione che dovrà andare a costruirsi col tempo Dottoressa Ruppani, quali feedback avete avuto nel primo incontro con gli allenatori e i tecnici? Ci siamo presentati alle associazioni a fine novembre se non sbaglio il 30 in piazza Placheda e ho avuto la sensazione di avere grande riscontro siamo stati in qualche modo interrogati sono stati interventi e abbiamo visto la partecipazione sia da parte dei genitori sia da parte di allenatori è chiaro che non li conoscevo ma mi sono poi documentata grazie ad Omar e agli altri collaboratori per discriminare quelli che potessero essere diciamo così la compagine genitori e invece la compagine degli addetti ai lavori diciamo così è stato interessante ricevere domande sia dalla parte diciamo così genitori piuttosto che dagli allenatori e in quella sede noi abbiamo presentato il progetto educativo sportivo in qualche modo l'abbiamo introdotto loro e abbiamo già iniziato subito a fare domande a fare richieste perché in quella sede è stato richiesto a tutti di presentare una sorta di curriculum sportivo da noi predisposto in modo tale da iniziare la prima fase di raccolta dei dati e a conoscere le persone con i nostri interlocutori diciamo così almeno per quanto riguarda gli addetti ai lavori quindi gli allenatori questo perché andrete a redigere una sorta di graduatoria? l'idea non è tanto quella di classificare o di categorizzare o di stabilire chi è più bravo o chi lo è meno ma semplicemente di conoscere le persone che abbiamo di fronte e capire quanto conoscono soprattutto non è messa in discussione chiaramente la loro competenza tecnica ma volevamo in qualche modo capire quanto fossero conoscenza delle parti prettamente educative e formative e dell'importante ruolo diciamo così anche sociale che lo sport riveste possiamo però dire che gli allenatori avranno dei diritti e dei doveri indubbiamente li possiamo presentare possiamo dare qualche indicazione su questo? ma in termini generali come diceva Cristina nessuno potrà andare a vagliare l'ambito tecnico uno perché il mondo sportivo italiano è talmente variegato che sarebbe difficilmente equiparabile all'interno delle varie discipline che abbiamo due perché comunque è un progetto nuovo il nostro che stiamo portando avanti sicuramente a livello di Nord Italia ne abbiamo avuto riscontri anche con altri diciamo collaboratori consulenti che abbiamo contattato legati a molti sport e quant'altro per cui non abbiamo troppi riferimenti per cui come diceva Cristina dal punto di vista tecnico giustamente ognuno fa il percorso all'interno della propria federazione per cui la federazione tennis prevede dalle cose la federazione scelpino ne prevede dell'altro la federazione nuoto ne prevede dell'altro e su quello sicuramente non potremmo incidere dovremmo solo farci garanti che chi ha contatto con i bambini abbia le competenze che le proprie federazioni richiedono tecnico sportive tecnico sportive per cui su quello la richiesta del curriculum è per capire appunto quale livello all'interno delle varie federazioni i vari tecnici hanno raggiunto dovranno essere dei professionisti comunque sicuramente la richiesta è che abbiano delle competenze minime in ambito sportivo poi anche su questo dobbiamo anche stare un attimino attenti all'interno del mondo sportivo all'interno del quale ci muoviamo nel senso che alcune federazioni fanno dei corsi di formazione di due giorni pur importanti che siano sono due giorni e non sono diciamo così formativi come possono esserli magari una laurea in scienze motorie per fare un esempio pratico per insegnare magari tennis devi aver fatto corsi di federazione di due giorni la laureata in scienze motorie ha fatto quattro anni di studi per cui è un'anche commistione di competenze che vanno richieste però ecco secondo me grosse problematiche dal punto di vista tecnico non ne avremo nel senso che comunque saranno richieste ovvio che poi viviamo in montagna non potremmo pensare di proporre il kayak con un allenatore del massimo livello federale perché di fatto non ci serve nemmeno dobbiamo anche commisurarlo a ciò che serve ai nostri ragazzi per cui se è un avviamento al kayak probabilmente serve chi ha competenze minime visto che non è in un ambito particolarmente diciamo sviluppato Dottor Galli serviranno quindi competenze tecniche ma anche e soprattutto competenze pedagogiche? Su questo appunto il curriculum ci dà la possibilità di sapere è una cosa che anche qua magari per pur parler si sa ma poi di fatto non l'abbiamo mai capire ogni persona che percorso personale ha fatto per cui il fatto che abbia fatto un liceo scientifico a differenza di uno socio psicopedagogico può già dare una tara diversa delle persone che diciamo collaborano con i ragazzi fino ad oggi appunto si sapeva ci si conosceva adesso il mondo dei renatori è diventato talmente anche numericamente alto perché comunque sono una quarantina cinquantina di renatori a più livello coinvolti per cui avere il curriculum in mano vedi la formazione che hanno diciamo così sostenuto e capiamo anche le competenze che hanno sicuramente dove le competenze da questo punto di vista non sono diciamo così alte o non sono state sviluppate in maniera personale l'idea è appunto anche di andare a fare delle formazioni di andare a fare delle proposte questo si inserisce anche all'interno del progetto comunità educante che va fatto che è stato impostato assieme a tutta la comunità per cui non è solo un nostro pezzetto ma è un pezzetto che stiamo facendo assieme all'oratorio assieme alla parlochia e quant'altro per cui si inserisce questo anche all'interno di un cammino di un percorso che si sta già portando avanti a livello di comunità competenze pedagogiche e quindi anche comportamentali indubbiamente l'idea non è quella per raggiungere qualcosa di quello che diceva non è quello di fare un ranking o una classifica degli allenatori ma capire anche dove noi possiamo intervenire come commissione dove formare e eventualmente con che magari corsi con che modalità faccio un esempio molto concreto intuissimo da questi curriculum che manca manca la parte prettamente comunicativa piuttosto che persone che non sono particolarmente in grado di relazionarsi con bambini molto piccoli per esempio nei primi anni degli elementari è lì che noi possiamo andare come commissione ad intervenire preparando per esempio dei corsi ad hoc per queste persone ci accorgessimo invece che ci sono persone con una spiccata capacità relazionale invece potremmo farci in qualche modo aiutare e farli promotori a larga scala di quelle che sono le fare in modo che secondo me le conoscenze vengano un pochino condivise no? Cioè sicuramente ci sarà sicuramente chi è più portato a lavorare con gli adolescenti perché ha scoperto delle sue modalità magari in itinere che lo rendono più recettivo nei confronti delle esigenze dei ragazzi adolescenti è una faccia d'età molto difficile per cui indubbiamente troveremo allenatori che invece come persone anche adulte normalissime che faranno più fatica a relazionarsi con gli adolescenti magari preferiscono i ragazzi più grandi oppure per contro i bambini più piccolini andiamo a colmare un pochino questi gap creando anche appunto dei corsi di formazione ad hoc bene poi su questo torniamo ancora volevo chiedere a Diego Peri agli allenatori gli addetti ai lavori verrà chiesto di firmare una sorta di certificazione di responsabilità rispetto agli incarichi che andranno ad assumere ma sicuramente sì perché c'è tutta l'attività della commissione anche di verifica un po' dei requisiti e di supporto ecco perché quello che mi interessa anche che esca come messaggio dello sporting e della commissione è che l'attività è anche di supporto non solo come da qualcuno viene vista eh no ma devo preparare il curriculum perché poi verrò valutato come come già si diceva non è solamente una commissione non valuta non fa le classifiche ma supporta e questo è il ruolo principale questo cioè si verificano i requisiti e si supporta le singole associazioni e le singole figure per l'obiettivo principale come già è uscito prima e anche il direttore sportivo Lomar lo ha già rimarcato è perché lo sporting deve assicurare quello che è la propria attività cioè nel senso deve essere in grado di garantire un servizio di qualità e professionalmente valido perché chi comunque da il comune ci mette dei soldi che alla fine sono i soldi della comunità e sono anche un investimento corposo le famiglie lasciano andare i ragazzi devono essere sostanzialmente sicure delle persone a cui affidano i propri ragazzi come si è detto non sta a me sicuramente tirare in ballo i problemi sociali piuttosto che i problemi che anche abbiamo nella nostra comunità però per dare una risposta concreta e positiva lo sporting deve avere appunto queste figure valide su cui poter affidarsi quando parlavo di regole intendevo anche quelle più elementari ovvie che però mi pare di capire ora sono state messe nero su bianco quindi il divieto di fumare o altre utilizzare altre addirittura altre sostanze sì certamente sì sembrerebbe un discorso ovvio perché alla fine è quasi paradossale che bisogna che ci sia la necessità di mettere nero su bianco certe regole però evidentemente in alcuni casi per fortuna a mio parere pochissimi però ci sono stati dei disguidi negli anni passati e quindi si è pensato che era meglio sostanzialmente passare alla forma scritta e che sia palese certi discorsi l'autocertificazione naturalmente implicherà tutta una serie appunto di diritti e di doveri ma soprattutto mi pare di capire vi è anche un'altra novità importante che è quella dell'assunzione diretta dei tecnici da parte dello sporting dica bene sì a dire il vero questo è un po' un diciamo così che per le attività che sono già partite quindi per la stagione invernale questo non è ancora stato possibile applicarlo in quanto ovviamente la commissione anche il nuovo regolamento dello sporting è stato approvato a novembre le attività erano già partite quindi sarà più un progetto che andrà sostanzialmente a verificarsi per le stagioni a venire diciamo così che l'ambito sporting club a livello giuridico è fatto ci sono delle sezioni e delle associazioni quindi questa è un pochino la grande differenza cioè le sezioni che sono la stragrande maggioranza un po' delle attività che vengono fatte a Livigno in ambito sportivo fanno riferimento a livello giuridico allo sporting quindi c'è lo sporting club che è un'associazione sportiva dilettantistica come se fossero dei rami sempre fanno riferimento allo sporting giuridicamente ci sono delle ramificazioni ognuna sulla sua disciplina quindi in quell'ambito lì certo che è lo sporting club che assume che sostanzialmente dirige quello che è le attività sportive poi ogni sezione ha il suo consiglio direttivo ha le persone che a livello operativo gestiscono la singola sezione ma fanno riferimento sempre allo sporting club direttamente poi ci sono invece le associazioni le associazioni sono affiliate ma giuridicamente invece sono a sé stanti quindi sono affiliate allo sporting da quest'anno anche lì la novità che hanno deciso di comunque rispettare quello che è il regolamento sporting quindi anche loro in un certo qual modo si sono unificate alle sezioni però a livello giuridico sono a sé stanti quindi hanno un codice fiscale a parte hanno una rendicontazione a parte e materialmente operano in maniera autonoma ripeto però il regolamento si applica anche alle associazioni quindi chi si aggregherà per così dire chi sarà tra virgolette parte dello sporting dovrà rispettare le regole dello sport assolutamente sì altrimenti non può farne parte quindi non può ovviamente far parte dello sporting non sono solo doveri per fortuna ma ci sono anche i diritti che sono quelli di ricevere i contributi di poter utilizzare le infrastrutture di poter fare affidamento su una struttura dello sporting e sul comune sì infatti quello che secondo me mi preme sottolineare tutta questa organizzazione è fatta per dare un supporto ai vari presidenti ai vari allenatori che poi ci saranno proprio perché molte volte anche parlando con dei presidenti che ci mettono tanta passione e magari sono anche quelli che poi finanziano senza dire niente anche le attività perché portando in giro i ragazzi o comunque si assumono magari di pagare il caffè la cioccolata al bambino o ai genitori ci mettono tanta passione devono capire che lo sporting è casa loro e quindi casa loro bisogna rispettare delle regole proprio per dare un servizio ai ragazzi e alle famiglie alle associazioni sportive verrà però data anche una una linea guida per l'assessore di questo progetto educativo come funziona? sì abbiamo già impostato e condiviso e comunicato appunto questa diciamo questo modulo sul quale ogni disciplina sportiva deve impostare la sua la sua il suo progetto educativo sportivo difatti il secondo passaggio era oltre a raccogliere il curriculum degli allenatori è stato dire ogni disciplina deve compilare il suo progetto educativo sportivo una volta che noi come commissione riceveremo diciamo questi progetti educativi sportivi dovremo fare diciamo un lavoro di analisi di sintesi per cui acquisendo queste informazioni dire ok tagliamo il tutto facciamone uno unico che vada bene per tutte le discipline che poi può essere attualizzato a seconda delle varie discipline sportive però siamo ancora in una fase appunto di raccolta dati ogni disciplina sportiva elabora il suo progetto educativo sportivo l'obbligo della commissione è farne sintesi e riuscire ad avere una proposta unitale questo progetto educativo sportivo è una cosa diciamo relativamente nuova ma non nuovissima in varie altre esperienze di coni provinciali di coni regionali diciamo stanno già operando in questa direzione da un paio d'anni poi ci sono alcuni rami sportivi che sono un po' più sensibili come il CSI il centro sportivo italiano come la WISP ci sono altri che sono un po' meno sensibili molto diciamo macchia di leopardo sul territorio nazionale diciamo questo aspetto però già il coni sta già dando indicazioni in questa direzione dicendo sviluppiamo ogni associazione sportiva sviluppi il suo piano educativo sportivo come in ambito scolastico c'è il piano offerta formativa il piano del famoso posto che dovrà essere condiviso in ambito sportivo c'è quello educativo sportivo noi siamo appunto in una fase di raccolta di informazioni perché poi finché ci si trova a fare riunioni a parlarne e così poi rimane tutto un po' lì il fatto di avere per iscritto questi progetti educativi sportivi poi hanno il compito di sondarli valutarli farne sintesi e riuscire penso in primavera al massimo in estate uscire con quello che è il progetto educativo sportivo dello Sporting Club che poi si ha la sintesi si ha la sintesi di tutto anche in questo ambito possono essere interessanti i spunti che vengono da chi opera diciamo quotidianamente nelle varie attività sportive in questo disciplinare avete tenuto in considerazione anche il ruolo delle famiglie dei genitori per loro che cosa prevedete tra i diritti e i doveri sono stati coinvolti nel senso che viene espressamente chiesto in questo piano educativo sportivo c'è una parte in cui viene proprio richiesto che cosa il genitore si può aspettare dalla società sportiva in questione e che cosa chiaramente invece la società sportiva in questione è in grado di fornire e si mette nero su bianco come dicevamo prima quelli che sono i criteri minimi che la società sportiva deve garantire ai genitori tornando alla metafora di prima della famiglia e della casa è bello pensare che il genitore quando affida allo sporting i propri figli possa contare su persone che sono in grado di curare prendersi cura e quindi ci si possa anche fidare di loro credo che affidare sia proprio dare ad altre persone adulte i propri bambini i propri ragazzi perché in realtà noi ci rivolgiamo non solo ai piccoli ma fino ai ragazzi che speriamo rimangano con noi fin dopo anche l'adolescenza e quindi in qualche modo ci si possa fidare e si possa quasi come fosse un padre di famiglia che si prende cura dei nostri ragazzi come diceva Omar il CONI si sta interrogando negli ultimi anni lo sta facendo almeno dal 2007 quando è uscito il libro bianco sullo sport con la commissione europea si sta interrogando su quello che è il contributo fondamentale dello sport nella prevenzione del disagio giovanile nella dispersione sportiva ma anche in qualche modo scolastica e noi a partire appunto da queste indicazioni del CONI abbiamo deciso di costruire questo piano educativo sportivo declinarlo per le singole attività e associazioni sportive e poi farne un grande diciamo così progetto che verrà in qualche modo chiaramente declinato perché le esigenze della pallavolo non possono essere le stesse dello sci alpino per esempio è importante l'opera dello sport e il contributo che lo sport può dare in luoghi come questi di montagna in cui la componente e l'attenzione la cultura sportiva è molto alta ma che una cultura sportiva non può prescindere dall'aspetto appunto educativo e formativo e pedagogico dello sport Per quanto riguarda gli aspetti educativi è così netta la distinzione tra attività sportiva agonistica e aggregativa? No assolutamente più volte ne abbiamo discusso anche in assemblea più volte si sono fatti vari ragionamenti quando io ho iniziato diciamo questo cammino ormai sette anni fa c'era secondo me il falso errore aggregativo è positivo agonistico è negativo e il comune finanzia solo l'aggregativo la parte sociale il resto non può essere finanziato più volte e l'ho sempre sostenuto non è il contenitore che fa la differenza ma è il contenuto posso avere un aggregativo proposto talmente male che è dannoso sia per la salute fisica sia per la crescita del ragazzo è un agonismo proposto bene che diciamo fa bene al ragazzo per cui non è non dobbiamo cadere nell'errore agonistico e aggregativo semplicemente dobbiamo vedere il quadro d'insieme dire l'attività sportiva se proposta con intensità giuste con qualità nei modi giusti è positiva prescindere poi dal nome che gli si dà noi in genere nel nostro sistema definiamo solo distinguiamo fra aggregativo e agonistico solo una questione temporale per cui l'agonistica dura tutto l'anno l'aggregativo è limitata a due o tre mesi poi in realtà se vai a vedere l'agonistica fa tre volte a settimana e l'aggregativo ne fa tre volte a settimana uguale per cui è solo una differenza di nome l'obiettivo è proprio dire facciamo le attività che hanno senso per i ragazzi poi una durerà un anno una durerà cinque mesi va da sé che hanno una differenza temporale però assolutamente non si può cadere diciamo in questo errore a seconda del tipo di nome chiediamo alle varie attività mi prego inoltre sottolineare che ci deve essere comunque un'attenzione all'aspetto formativo educativo anche qualora si trattasse di sport vissuto in maniera agonistica ci sono evidenze anche scientifiche questo è facile trovarle in letteratura soprattutto americana o comunque straniere anglosassone evidenze scientifiche che dimostrano che dove c'è divertimento dove c'è la possibilità in qualche modo di vivere la relazione in maniera adeguata e parlo di relazione educatore e agonista in questo caso ragazzo sportivo allora i risultati vengono con maggiore facilità e con minori sostenendo magari minori fatiche fisiche e anche mentali basta pensare a livelli di di ansia ho fatto una tesi per la scuola di specialità quindi non alla quinquennale in psicologia ma quando poi mi sono specializzata in psicoterapia in cui ho aiutato due atleti nella preparazione mentale in vista anche delle olimpiadi che si sono appena svolte a Sochi quindi questo dimostra come la componente mentale la componente psicologica abbia un ruolo abbia un ruolo importantissimo non solo in quello che è la componente l'aspetto aggregativo ma indubbiamente anche nell'aspetto agonistico quindi vorrei che sarebbe bello diciamo così se il ruolo della commissione non venisse visto solamente come in qualche modo giudicante perché innanzitutto non lo è ma come potesse essere davvero essere un aiuto un servizio per migliorare quello che è l'aspetto agonistico l'aspetto prestativo ma soprattutto la qualità e il benessere che i ragazzi possano vivere all'interno della squadra piuttosto che del gruppo sportivo di cui fanno parte questi aspetti che spesso vengono sottovalutati come possono essere per così dire affrontati soprattutto nell'ambito della formazione che cosa prevedete si pensava come dicevamo prima vogliamo prima raccogliere i dati e capire con che interlocutore abbiamo a che fare e magari ci stupiremo potremmo anche stupirci delle competenze che loro hanno acquisito magari sul campo piuttosto che nelle loro formazioni che hanno ricevuto dopodiché declineremo la nostra offerta sulla base proprio di quella che è la loro esigenza mi vengono in mente puntate per così dire o serate sulla comunicazione piuttosto che sulla gestione dell'ansia piuttosto che su il conoscere le possibili problematiche che possono avere i ragazzini adolescenti rispetto a bambini di una prima elementare piuttosto che di una seconda in qualche modo si tratta proprio di una formazione a tutto campo quindi anche pensata ad hoc per chi per esempio già in età diciamo giovanile affronta le prime vittorie o le prime sconfitte e indubbiamente la nostra offerta potrebbe rivolgersi sia agli allenatori formatori in questo caso sono i nostri primi interlocutori gli interlocutori primari ma che dovranno trasmettere ai ragazzi anche come si affronta una vittoria o una sconfitta esattamente esattamente nulla ci vieta pian piano come diceva Omar è un lavoro che sarà sicuramente lungo di poi metterci in campo per aiutare direttamente qualora i nostri allenatori non riuscissero a risolvere gli eventuali problemi è chiaro che la disponibilità di intervenire sul singolo atleta previo accordo con i genitori c'è dottoressa ha parlato delle sue competenze una curiosità ha già applicato l'ipnosi per esempio in ambito sportivo diciamo che sì l'ho applicata con i due ragazzi di cui parlavo prima per la mia tesi di specialità ho dovuto condurre un lavoro in qualche modo scientifico vale a dire sono stati fatti dei pretest prima chiaramente della somministrazione non in questo caso di un farmaco ma del nostro trattamento psicoterapeutico dopodiché sono stati seguiti dal punto di vista mentale per un'intera stagione che si è protratta più o meno da settembre fino a marzo e dopodiché è stata fatta una successiva rivalutazione di livelli per esempio di ansia piuttosto che alcune capacità di base gli atleti sanno per esempio self talk piuttosto che capacità in qualche modo di auto calmarsi auto motivarsi prima di una gara ricordo per esempio a Giorgio Rocca che utilizzava questa tecnica prima delle gare se non sbaglio Giorgio Rocca è stato seguito dal dottor Vercelli che è nel nostro campo uno dei migliori è stato ospite anche del nostro programma ipnosi a parte che forse potrebbe servire anche per qualche genitore o per qualche educatore crede che saranno per così dire più che pronti disponibili ad affrontare questo percorso che si pronuncia comunque è un percorso faticoso anche di lavoro per chi andrà ad affrontare a scegliere questa strada anche professionalmente sportivamente parlando spero che siano disposti ad allenarsi in questa direzione nel senso che come dicevo prima il ruolo della commissione non vuole essere assolutamente giudicante ma vuole essere un mettersi in campo insieme collaborare e insieme ancora una volta lo ripeto migliorare migliorarci sì nella pratica dell'attività sportiva vi sono più vantaggi o svantaggi o meglio è bene praticare l'attività sportiva no limits oppure è bene dosare lo sport credo che qualsiasi generalizzazione in termini assoluti sia qualcosa di sbagliato difficilissimo esporsi così tanto qualcuno diceva che non esiste farmaco che somministrato indipendentemente dalla dose possa fare bene quindi bisogna declinarlo bene conoscere a me piace pensare a un abito cucito su misura nel senso che l'attività sportiva così come in qualche modo l'attività formativa in generale parlo anche per esempio della scuola debba essere cucita doc sul bimbo che ho di fronte piuttosto che sul ragazzo che ho di fronte piuttosto che ancora una volta su un atleta si possono raggiungere livelli altissimi a fronte anche però di un benessere psicofisico non necessariamente bisogna stressarsi o vivere con ansia e angoscia la gara un progetto molto ambizioso anche quello della commissione abbiamo capito anche unico che potrebbe diventare un progetto pilota cosa pensa anche delle strategie e delle scelte che sono state fatte diciamo prima politicamente e poi strategicamente io ho apprezzato molto il fatto che uno sporting di Livigno con umiltà dal mio punto di vista si mettesse in discussione e provasse in qualche modo a pensare strategie per migliorarsi e per crescere e per raggiungere ancora più interlocutori e non perdere quelli che chiaramente già si erano in qualche modo agganciati nel corso degli anni quindi lo trovo davvero un gesto umile ma allo stesso tempo ambizioso bene Diego Peri lo sporting club avrà insomma degli obiettivi molto alti non solo quello di gestire l'organizzazione ma o di per così dire fornire palestre a chi ne richiederà l'uso sì in base a quello che si è detto è sicuramente un progetto molto ambizioso difficile lungo lungo comunque sia non realizzabile nel giro di qualche mese questo penso che sia palese e appunto lo sporting a parte oltre a quello che è la sua ruola operativo nella gestione proprio delle infrastrutture dei contributi degli automezzi eccetera avrà appunto anche questo obiettivo molto più importante dal mio punto di vista che è quello di cercare di valorizzare la cultura dello sport nell'ambito giovanile a Livigno questo secondo me è la cosa principale anche quella più difficile ma dal mio punto di vista anche più bella e più ambiziosa ripeto dal mio punto di vista a Livigno ci sono parecchie figure che sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista proprio professionale a 360 gradi hanno cioè la base secondo me è molto buona perché comunque ci sono delle figure veramente importanti se si riesce a coinvolgere il maggior numero di persone che hanno la possibilità di dare un qualcosa in questo ambito per me è un progetto che è un obiettivo che si può raggiungere e si deve raggiungere un contributo di Livigno in testa ad ogni atleta che partecipa alle gare di Coppa del mondo e questa è la novità del 2015 beh questa è sicuramente importante nel senso come amministrazione penso che l'obiettivo sia quello di da una parte dare le strutture dare le infrastrutture e perché molte volte ci si dimentica tante infrastrutture che andiamo a fare pensiamo alla pista da fondo hanno l'ottica sì turistica ma vengono fatte anche e soprattutto per i nostri ragazzi che sono qui a Livigno e che devono avere poi eventualmente ad esempio la pista da usare a novembre quindi per potersi allenare ma per fare del sano sport quindi io sono contento molto contento di come siamo partiti e ringrazio la dottoressa Cristina che è sicuramente una buona una buona una buona partenza quindi Cristina Omar Diego siamo tutti coinvolti in questo obiettivo quindi speriamo davvero di arrivare tra un anno e mezzo se vogliamo darci un obiettivo di un anno avere dei risultati migliori dal punto di vista sportivo l'amministrazione l'APT lo sporting quindi tutto quello che vuol dire amministrazione ha ragionato anche sugli atleti gli atleti che portano in giro il nome di Livigno l'abbiamo fatto due anni fa con Nani con Roberto e abbiamo avuto dei ritorni fantastici a livello di immagine se pensate all'ultima gara di Coppa del Mondo con la gazzetta dello sport con Livigno sul casco è sicuramente importantissimo anche qui abbiamo dato una novità rispetto al passato non l'abbiamo mai detto in televisione ma lo voglio dire anche nel ringraziare ad esempio Roberto Nani nel contratto diciamo di sponsorizzazione che è stata fatta abbiamo detto il 10% di quello che prenderai lo ridai allo sporting siccome l'obiettivo era dire tu sei arrivato in Coppa del Mondo grazie a un'organizzazione grazie all'amministrazione che ha creduto in te a 6 anni a 7 anni una parte di quello che prenderai lo ridarai ai ragazzi di Livigno per riuscire magari ad arrivare dove sei arrivato tu lui c'è stata una disponibilità sua e quindi questo lo ringrazio e da lì siamo partiti ringraziando lo sporting e con la PT quest'anno questa volta abbiamo detto ci sono tanti ragazzi che fanno Coppa del Mondo Coppa del Mondo e vorrebbero avere l'onore l'onore di portare Livigno sul casco e quindi abbiamo preso 8 atleti nostri che avranno l'onore ma anche l'onere di portare Livigno in giro per il mondo è aria fresca sono ragazzi che davvero si stanno impegnando è un contributo minimo ma è un aiuto per dire continuate così e speriamo in futuro di avervi sul podio di un'olimpiade quindi tutti gli atleti che disputano qualunque disciplina attività in Coppa del Mondo qualunque atleta che partecipa alle gare di Coppa del Mondo avrà una sponsorizzazione la sponsorizzazione questo devo ringraziare che non l'abbiamo detto anche Luca Moretti con il quale abbiamo condiviso questo obiettivo avranno sul casco Livigno e speriamo speriamo che gli porti bene continuerete anche a portare avanti il progetto delle borse diciamo di studio che valorizzeranno quei ragazzi bravi sia nell'attività agonistica che nell'attività sportiva che nello studio abbiamo cercato di dare più visibilità facendo la festa dello sport ogni anno abbiamo messo 7500 euro perché è davvero importante lo sport e la scuola quindi questo lo ripeto molto spesso purtroppo abbiamo una scuola che molte volte non si cuce diciamo molto facilmente su un'attività sportiva e questo è un problema della scuola perché molte volte chi fa sport viene un pochettino non aiutato dagli insegnanti quindi io spero faccio un appello perché anch'io ho fatto sport e sono andato a scuola e molte volte è difficile i ragazzi si impegnano molte volte è più facile andare a con gli amici a giocare alla playstation ma chi fa sport merita anche che la scuola gli dia una mano allo stesso tempo i ragazzi si devono impegnare e possono fare condividere scuola e sport assieme quindi un'idea dell'amministrazione che poi abbiamo fatto con lo sport già l'anno scorso abbiamo premiato chi ha i risultati sportivi e chi ha anche dei risultati a scuola e sicuramente continueremo su questa strada bene io ringrazio i miei ospiti ringrazio la dottoressa Rupani grazie buonasera ringrazio il dottor Peri buonasera grazie a voi e il dottor Galli grazie buonasera ringrazio Omar Galli direttore sportivo dello Sporting Club buonasera e ringrazio voi da casa che ci avete seguito arrivederci